Ciao, benvenuti amici. Ciao, benvenuti amici. Finestra, finestra, finestra. Porta, porta, porta. Divano, divano, divano. Libreria, libreria, libreria. Lampada da pavimento, lampada da pavimento, lampada da pavimento. Immagine, immagine, immagine. Tavolo, tavolo, tavolo. Sedia, sedia, sedia. Tappeto, tappeto, tappeto. Grucce, grucce, grucce. Gatto, gatto, gatto. Cane, cane, cane. A più tardi, arrivederci. A più tardi, arrivederci. A più tardi, arrivederci. Ciao, benvenuti amici. Grazie a tutti.